Ora vi presento il sesto concorrente, si chiama Pierluigi Ricci, allora Pierluigi è cresciuto professionalmente a Courmayeur ma da diversi anni vive e lavora a Bergamo dove sta per aprire il suo quarto locale. È un professionista della mixology e appunto a capo appartiene ad Abbey Professional. E da alcuni anni appunto grazie ad Abbey Professional mi raccontava che hai iniziato a fare delle competizioni ottenendo degli ottimi risultati, quindi insomma un esperto concorrente. Prego il vero Luigi. Grazie. Solo una piccola premessa e sarei già pronto. Ho pensato molto al concetto di replicabilità per quanto riguarda il cocktail, quindi sarò molto veloce a farlo. Adesso faccio una specie di preparazione un pochino più elaborata ma comunque tutti gli ingredienti che io sto usando si possono mettere direttamente nello shaker e servirmi così automaticamente, senza fare questa preparazione che io ho fatto che è un pochino scenografica. Giusto per la giuria tecnica se c'è il bicchiere non lo raffredderò perché viene dal frigorifero, è già freddo, quindi non metterò un ghiaccio dentro per allungare il colo ulteriormente il cocktail. Io posso cominciare? Allora, eccoci qua. Dunque, cerchiamo sempre un'ispirazione quando cerchiamo di fare un cocktail. In questo caso l'ispirazione, la materia ispirante è stata al te stesso. E' te stesso che richiede un rito, un rito che è paragonato a una forma d'arte, tanto quanto la pittura o la poesia. Anche noi siamo un po' degli artisti, noi barman, no? Cerchiamo sempre di fare qualcosa che crea un'emozione quando la serviamo, no? Questo è il nostro scopo. A volte ci riusciamo, a volte un po' meno, a volte facciamo dei capolavori, a volte facciamo degli scarbo occhi. Per fare questo cocktail, visto che deve essere un capolavoro, o almeno uno ci prova, ho usato del materiale, spero ottimo. Ho cercato un tè che pare che sia uno dei migliori, che è un tè bianco, e la sua qualità, una delle sue qualità migliori, guai peonia. Aromatizzato, vaniglia e pera, che ho mischiato già, come se fosse in cotte, con un tè a salm, un pochino più robusto, che è un sentore di cuoio, sentore di malto, no? Che adesso vado a sbattere con un pochino di marmellata, marmellata, di gelatina di arance e dello sciroppo di acero. Come parte alcolica, invece, ho voluto fare un incontro fra occidente e oriente. Metteremo del Jack Daniel Honey, il prodotto che mi è piaciuto molto, subito dall'inizio, molto miscelabile, è ottimo. Scusate, quando faccio le dose interroppo, perché se ne vuole ho più sbagliato, e non è più volte mi succede, esatto. E un pochino di bolo si mette cacao. E voilà. Anche nella guarnizione sono stato abbastanza sbrigativo, ho fatto una guarnizione e simpatica, ma moderna, sempre al massimo della replicabilità, e anche commestibile, perché è fatta di frutta. Le dosi sono già pronte, per sei cocktail, io le mischio direttamente, le sbattiamo ancora un pochettino. La gelatina di arancia e lo sciroppo di acero mi servono per dare un pochino di corpo al coltere, perché ho notato che il tè è difficilmente miscelabile. Cioè, resta sempre comunque, bisogna stare attenti, un po' di apposità. E voilà. Ecco, la freddiamo, ulteriormente. Prepariamo la masacola. Cioè, un pochino. anche bicchiere, ho scelto un bicchiere di uso comune, un thumbnail basso per bicchiere ma che tutti possono reperire e ora e ora uniamo il nostro tè e spazio è molto profumato, ci sono un sacco di sentori, c'è anche il fiolta riso con un profumo del tè bianco ho scelto il tè bianco perché è un tè importante, un tè che anche lui all'interno della sua raccolta ha un suo dito quindi è raccolto solo due volte l'anno e solo le parti apicali non viene trattato in nessun modo, è totalmente naturale scusate non lo spegne a grumi perché sono interno trasloco e non trovo più nulla perfetto ecco qua molto veloce, molto rapido, la decorazione, un po' spiritosa e voilà il nostro cocktail è pronto un applauso per gli interventi adesso passerò con dei biscottini salati al pesto che quando lo assaggerete ve ne offrirò uno perché secondo me è uno stacco molto deciso il cocktail è decisamente dolciastro ma con il salato del pesto secondo me ci sta molto 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 bene prego grazie grazie a voi grazie 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 mille grazie le lascio qua